Chiediamo alla Regione Basilicata chiarezza sull'ospedale di Villa d'Agri. Come ho detto dall'inizio dell'emergenza Covid, la trasparenza e la celerità della comunicazione istituzionale a tutela della popolazione è il requisito fondamentale per la gestione dell'emergenza e per la tranquillità dei cittadini stessi. E' quanto dichiara il Vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata Polese di Italia Viva per il quale in queste settimane c'è una evidente falla comunicativa in diversi territori lucani, tra cui la Val d'Agri rispetto alle procedure, alle tempistiche e ai luoghi dove effettuare tamponi. In particolar modo con l'aumento dei contagi e con lo sviluppo di importanti focolai di infezione da Covid in diversi comuni della nostra Regione non si può lasciare all'interpretazione soggettiva o al chiacchiericcio una questione che riguarda la salute delle persone. Per questo, conclude, chiedo all'assessore Leone, al Presidente Bardi e all'intera giunta regionale di relazionare sulla questione.